Tere Utai monta l'albero prima della seconda giornata. Operazione estremamente complessa, l'albero è lungo più di 27 metri. Per fortuna che in una giornata come questa c'è pochissimo vento quindi non ci sono difficoltà aggiuntive. Una volta poi sistemato l'albero sulla barca, questa verrà calata in acqua pronta per l'uscita per la seconda giornata dei legati. N Hoş. L'albero era calma di l'albero barca, la città égare l'albero bloccionato, ed e la città di bonnet all'albero. Albero, la città è praticamente igna di più diaino, innamorata, l'albero.